La Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, promuove la campagna Arriva l'estate Uniti per la pelle, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla prevenzione dei tumori cutanei. Durante il periodo compreso tra il 1 e il 30 giugno, chiunque sia interessato può prenotare una visita gratuita per la prevenzione dei tumori cutanei tramite il sito internet www.liltcaltanissetta.it. Con l'arrivo dell'estate, la Lilt si concentra sull'importanza di prevenire tumori cutanei e in particolare il melanoma, che è una forma di tumore con elevato potenziale metastatico e che registra un significativo aumento di nuovi casi ogni anno. La campagna mira a sensibilizzare le persone sull'importanza di una corretta esposizione ai raggi solari. Inoltre si evidenzia il divieto di utilizzare lampade artificiali a scopo estetico per i minori e si consiglia di limitarne l'uso negli adulti. Il melanoma rappresenta il tipo di tumore cutaneo più pericoloso, ma può essere efficacemente contrastato attraverso attività di prevenzione primaria e secondaria. La prevenzione primaria include l'adozione di comportamenti sani, come l'esposizione al sole nelle ore meno intense e l'uso di protezioni solari adeguate. La prevenzione secondaria, invece, prevede l'autoesame regolare della pelle per individuare eventuali cambiamenti sospetti e lo screening clinico-dermatoscopico effettuato da un dermatologo specializzato. Aldo Amico, presidente della Lilt Caltanissetta, sottolinea che la prevenzione è il modo più efficace per combattere il melanoma. La diagnosi precoce rappresenta lo strumento principale per il controllo clinico e prognostico di questa forma di tumore cutaneo. Se individuato nelle prime fasi, il melanoma può essere sconfitto nel 90% dei casi. Coloro che prenotano una visita gratuita riceveranno non solo una consulenza dermatologica, ma anche materiale informativo per una corretta esposizione al sole. È importante sottolineare che per l'esecuzione dell'indagine strumentale denominata dermatoscopia digitale è richiesto un ticket. Questa procedura permette di analizzare la pelle in modo approfondito, aiutando ad individuare eventuali segni sospetti o lesioni che richiedono ulteriori indagini.